ora apriamo il file 02 e facciamo un rendering con 100 passaggi qui abbiamo ancora il nostro light mix in questo caso ho disabilitato la corona light 1 in vari momento l'ho impostato a 60 qui corona light 1.30 quindi se vogliamo giocare con quelle impostazioni e poi andiamo all'interno di quelle che sono le disponibilità oggi impostate in quella che l'area della post produzione queste sono aree che abbiamo già visto sono state inserite delle nuove aree che sono le curve una volta che noi attiviamo le curve abbiamo la possibilità di accedere ad un pannello che è uno dei pannelli che si trovano ad esempio all'interno dei vari programmi come programmi di foto di tocco però già inseriti all'interno appunto di corona il che è molto comodo perché ci dà la possibilità di vedere direttamente all'interno del nostro frame buffer che cosa andare a cambiare innanzitutto questa tipologia di grafico è un grafico che si dispone su diversi canali uno è il canale della luminosità e poi ci sono i canali dei tre fattori scomposti che sarebbero ad esempio il rosso il verde ed il blu il tutto viene rappresentato andando a cambiare poi i vari canali in relazione alla tipologia di istogramma che lui sta rappresentando per intenderci gli istogrammi sono tre il più semplice quello lineare poi ce n'è uno che viene denominato come logaritmico e poi ce n'è uno che si chiama cumulativo questo cumulativo entra in gioco anche quando noi andiamo ad equalizzare l'immagine con un semplice tasto che sarebbe questa tipologia di tasto una volta che io vado a equalizzare questo tipo di immagine la mia curva di riferimento viene rapportata qui sotto che sarebbe la curva della luminosità in questo caso e viene impostata con i punti relativi a quello che è il listogramma cumulativo come sempre io posso andare a resettare tutte queste informazioni quello che faremo diciamo come primo approccio è quella di utilizzare la modalità ad esempio della luminosità quando io voglio modificare una tipologia di curva la prima cosa che posso fare è andare a fare un click direttamente con questo selettore con il tasto sinistro del mouse e successivamente posso andare a modificare la posizione di questo elemento qui abbiamo una modalità lineare la modalità lineare significa che la curva viene spezzata nel punto in cui io ho fatto il clic che nel momento in cui poi la vado a modificare se voglio una rappresentazione più morbida dovrò impostarmi con il cubit spline chiaramente sono due modalità diverse perché la curva poi si deforma e mi dà una rappresentazione anche diversa all'interno della piccola premium buffer chiaramente la lineare è più secca la cubica è più morbida perché appunto è morbida vedete un po' come il point curve dell'espline e il besier dell'espline quindi l'andamento un po' è questo quando io voglio contrastare una tipologia di render quello che faccio è fare questo prendere la curva alzarla nella parte superiore abbassarla in quella che è l'area inferiore in questo modo in questo caso io vado a creare un contrasto direttamente all'interno della curva senza dover andare a cambiare quella che sono le ombre per quanto riguarda l'illuminazione e le luci e così via reset vado a resettare la curva la curva può essere anche presa con i tassi di peak cosa vuol dire quando io entro all'interno del peak ho la possibilità vedete quando entro nello spazio di visualizzare ad esempio queste queste zone ok lo vediamo un attimo con il render nel light mix attivo un attimo questo e lo faccio diventare un po' rosso ok ed entro ancora in editor vado un attimo sulla curva rossa red e prendo il tasto peak quando io seleziono delle aree che sono come dire vedete interessate in modo più importante da quella che è l'area rossa lui mi delimita determinati punti e quindi mi sta dicendo guarda che il click che tu hai fatto rispetto a questa curva di rappresentazione è rappresentata da quest'area quindi sta significare che se io poi vado abbassare chiaramente questi punti in quella determinata posizione vado ad abbassare quella che è la presenza rossa qui siamo nella parte alta dove ci sono le zone diciamo un po' in ombra infatti vedete che in questo caso io sono andato un po' ad abbassare quello che era il rosso presente all'interno del mio render quindi funziona come dire in questo modo ritorno all'interno del light mix vado a rispegnere un attimo questa luce ritorno in post produzione ritorno nella curva e gli dico vami a resettare ad esempio soltanto la curva in questo caso presa in considerazione che noi abbiamo utilizzato che è la rossa vedete che lui vi fa vedere comunque quella di luminosità e quella rossa che è questa quindi la red che è questa qua chiaramente se io voglio andare a modificare ad esempio anche la green che è questa la posso prendere e posso abbassare un pochino la green in questo caso diventa tutto un pochino più violaceo perché non ho modificato la blu quando vado a rivedere tutte le curve lui me le fa vedere tutte in modo anche singolo una due tre la blu invece non l'abbiamo ancora modificata quindi se voglio andare a resettare la rossa mi posiziono sulla rossa e gli dico reset se voglio andare a resettare la green mi posiziono sulla green e gli dico reset e quindi ritorno in quella che è la modalità di partenza questo per quanto riguarda le curve che sono determinate come curve singole nel momento in cui io vado in modalità ad esempio lineare ad modificare quindi questa questa tipologia di curva perché sto creando un determinato contrasto come come abbiamo detto possiamo vedere la curva in questa tipologia e l'istogramma lo possiamo vedere in queste tre tipologie quella che userete di più sarà comunque sempre la lineare poi c'è la logaritmica e la cumulativa questo non significa che andiamo a cambiare l'aspetto del render in sé per sé andiamo a cambiare solo la rappresentazione dell'istogramma ciò che cambia l'aspetto del render è la tipologia di interpolazione di questa curva se la vogliamo più contrastata o se la vogliamo ad esempio più morbida se un punto non mi piace posso andarci sopra e con il tasto adesso del mouse faccio un clic e vado a ricancellare questo punto tutti gli elementi che io inserisco quindi in modo molto interattivo li posso poi andare a salvare save con un salvataggio nella posizione dell'hard disk che io preferisco in questo caso io già ne avevo osservato uno quindi gli dico load e vado a prendere questa tipologia di curva questa è una curva che è stata realizzata con i tasti pick e quindi andando a prendere determinati elementi e poi spostandoli e spostandogli i vari elementi dico un attimo reset dico ad esempio p che qua e lui mi fa vedere che questa zona gli dico p che qui che mi fa vedere che questa zona ad esempio una zona intermedia quindi abbiamo tutte le zone che lui vi fa vedere per darvi un po' l'idea poi nessuno di noi ci vieta di inserire chiaramente dei punti fatto questo come vi ho detto si gioca e si porta questi si portano questi diciamo questi punti nella posizione che è desiderata oppure load si carica e questa curva può essere caricata per questo tipo di render ma può essere caricata anche per altri tipi di render quindi il vantaggio è questo se non voglio la curva la posso disattivare ne posso salvare quante ne voglio caricarne quante ne voglio vi ho salvato questo file come 06 inoltre all'interno di quella che è la cartella delle immagini che è presente all'interno del corso quindi render, image file, rendering, trovate le diverse cartelle, una con la line mix che abbiamo fatto prima qui abbiamo i vari render, questo è il render all'inizio senza il curve editor e questo è il render con il curve editor che abbiamo utilizzato insieme qui abbiamo utilizzato insieme